ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi con recensione completa su questo pannello led in cui si può mettere in giardino si può mettere in un garage si può mettere fuori casa con questo pannello solare che lo ricarica direttamente infatti esistono diversi tipo di pannelli solari in cui avete la possibilità di utilizzarlo anche dentro un magazzino ma sicuramente questo qua molto piccolo molto compatto poi sito che trovo che potete trovare il venditore si chiama liusharv con lo shop di amazon richam direct in cui potete trovare sul sito su amazon che rimango in descrizione tutti i prodotti ancora più grandi e con luci ancora più potenti se avete bisogno di una luce sicuramente questa fa al caso vostro abbiamo la certificazione ip65 resistente a polvere ad all'acqua a mi piace tantissimo questo è il pannello solare con tutti i suoi materiali questa è la luce led questo è il foglio delle istruzioni dovete potete leggere come montarlo e tutto con le questi sarebbe vari oggetti per collegare direttamente la luce led ora come detto l'altra volta basta collegare questo filo a quest'altro ora da dietro basta premere un pochino questo bottone da dietro e la luce ora si dovrebbe accendere ecco in questo modo ora è accesa sta caricando grazie al pannello led la cosa bella si può anche caricare con altre luci che io non sapevo è un'ottima cosa e anche sotto la luce del sole carica molto velocemente per collegarlo ancora meglio anche fuori basta mettere queste viti che sono uscite come ho detto nella confezione ora andiamo a collegarlo ecco ragazzi dovete mettere direttamente questo qua in cui si mette in questo modo fuori alla parete collegato con questo ora andremo anche a vedere fuori come funziona come va come tutta l'altra volta e sicuramente è un ottimo prodotto poi a quattro luci ma lo spengo un attimo che se non sta troppa luce ecco in questo modo comunque quando lo dovete spegnere basta cliccare il pulsante dietro spegne il pannello poi per smontarlo basta smontarlo in questo modo tutto destro sinistra e pannello è smontato qua dietro come vedete su questo parte ora andiamo a vedere come funziona precisamente il prodotto ragazzi questo è il pannello solare che si può collegare con il pannello red in questo modo lo stringiamo bene questo è il tasto di accensione basta schiacciare il pulsante qua dietro per un po' di secondi e il led si dovrebbe accendere ora è acceso comunque abbiamo vi ricordo sempre di utilizzarlo in modo adeguato potete anche il link in descrizione del venditore che è l'usharv poi abbiamo lo shop di amazon di richam direct infatti questo pannello led è molto comodo molto utile che mi piace moltissimo e poi questi pannello led ad esempio se volete andare pure per esempio in giro anche per mettere la luce o anche se viene utilizzato anche per il giardino come vi ho detto o altri tipi di parti sicuramente è molto utile poi avete anche la possibilità di utilizzarli anche in zone a buio sicuramente è un'ottima soluzione infatti è consigliabile non utilizzare se volete smontarlo o altro da professionisti e non persone che non sono specializzati in questo ambito abbiamo anche la certificazione IP65 come vi ho detto e avete la possibilità di utilizzarlo in qualsiasi modo prendere un muro in un modo con le viti sicuramente è un'ottima scelta ragazzi comunque questo è tutto da te con i Gigi con i miei video lasciate like iscrivetevi al canale ragazzi ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi al canale